Amici di Youtube, benvenuti in questo canale che si parla esclusivamente di Diabolik. Quest'oggi presenterò duelle fra criminali, ma non prenderò la storia dalla collezione degli inediti e nemmeno delle ristampe, quelli con la costola bianca, ma bensì da questo volume extra serie, che è raffigurata la stessa storia. Allora, duelle fra criminali è uscito per la prima volta il 20 agosto 1973, quindi ha 44 anni ed è questo. Poi ancora è uscito il ristampe R con il numero 248, il 24 ottobre 1988 e ha 29 anni ed è questo. Poi è uscito il ristamba Swiss il 20 gennaio 2015, 15 a meno di due anni, e appunto per questo i ragazzi più giovani, i collezionisti più giovani, sicuramente lo conoscono. Però noi la storia la presenteremo da questo volume, che in occasione dei 100 anni del fumetto italiano, proprio questa storia di Diabolik è stata stampata in questo volume. Il racconto inizia con una storia già avviata, infatti Diabolik ha progettato un colpo al museo per prendere dei gioelli. arriva al museo, entra e trova gli allarmi staccati. Allora dice qualcuno mi ha preceduto, nemmeno i gioelli ci sono più, anche i figli sono stati tagliati, i figli dell'allarme, e dice se c'è qualcuno lo fermerò. Invece questo qualcuno è nascosto perché l'ha preceduto di una mezz'ora, infatti ha detto Diabolik. Diabolik esce, va in macchina e Eva Kenta non c'è più. Quindi quella persona l'ha rapita, eccola qua si vede in macchina, dice era molto che aspettavo questa occasione, finalmente si è presentata. Perché lui è un criminale come Diabolik, ha i trucchi simili ai suoi, gli manca solo la formula delle maschere, e lui questo è lo scopo che vuole raggiungere. Eva Kenta nel frattempo si è svegliata, però fa finta di essere ancora addormentata, perché vuole vedere dove si trovano. In parte c'è anche le macchine uguali a quelle di Diabolik. Questa persona si chiama Victor Conall, e la fidanzata Karin, eccola qua, in dietro di copertina. Allora arriva nel suo rifugio, eccola qua la fidanzata, e Victor dice è andato tutto bene, ma c'è una sorpresa, in macchina c'è Eva Kenta. Dice sì, adesso noi la facciamo parlare con Diabolik, e voglio il segreto delle sue maschere. Infatti lui sta raccontando alla fidanzata, mentre ha catturato Eva, gli ha dato un pugno e poi l'ha portata nella sua villa, nel suo rifugio. Eva si sveglia e dice chi siete? Dice non ti preoccupare, sono tottonal, non hai nulla da temere, voglio solo la formula delle maschere di Diabolik, perché voglio diventare come lui. Allora dice, devo parlare con lui, sennò può pensare che io non sia viva. Dice non ti preoccupare, ti faccio parlare. Allora Eva dice, amore sto bene, cosa hai detto ti sento male? Questa è una frase in codice, in modo che Diabolik ascolta attentamente quelle che sta dicendo e dice sono prigioniere di un certo Conall, ero in macchina, lui mi ha colpito di sorpresa, mi ha colpito e ora però sto bene, non ti angosciare. Ogni inizio della parola è in crassetto, vedete? In modo che si legge Selmon. Diabolik da questa confessazione ha capito che si trova a Selmon, dice conosco questa zona, andrò subito ad esplorarla. qua stanno confessando Eva Kent con Karin e la fidanzata, allora Diabolik fa il possibile che non vuole rivelare il segreto delle tue maschere. allora si mette in azione e va in questa zona, con un rilevatore dei metalli riesce a trovare l'entrata del rifugio di questo Conall, quindi entra attraverso le cellule fotoelettriche, però a un certo punto rimane bloccato e Conall lo sto guardando dal monitor, dice lo so che avresti cercato di scoprire il mio rifugio ma mi avevi sottovalutato, io ti stavo aspettando, Diabolik ti devi arrendere, allora Diabolik dice va bene, fammi sapere quanto ti devo portare la formula delle maschere, Conall glielo dice, però Diabolik non è che torni indietro, circondo un'altra volta la zona e vedo una grazia dell'aria condizionata, entra qua dentro ma trovi il gas, anche questa volta è stato sconfitto da questo Conall, che poi questa scena è la stessa che sta in copertina dell'originale, dice allora ancora non ha capito che deve cedere, a questo punto Diabolik organizza un piano, che cosa fa? Telefona Ginko e dice che ha visto Diabolik in un posto molto lontano da dove si trovano queste persone, in modo che Ginko è assente dalla polizia, poi lui va un'altra volta in questa zona, anzi poi c'è Conall che dice a Carina e dice raccogliti i capelli come ce l'hai a Evagante perché mi piace molto e magari dopo te li vincerai anche tu biondo come lei, perché ti voglio come lei, che mi piace molto e lei dice ma io ho paura Conall, ci stiamo mettendo contro Diabolik, che lui dice non ti preoccupare che vinceremo noi e qua c'è un grande abbraccio fra i due. Allora a questo punto mentre si stanno baciando suona l'allarme e Conall dice siamo circondati, però non vedo nessuno perché Diabolik ha messo dei piedi meccanici per far sembrare che ci stanno dei poliziotti che hanno circondato il rifugio per farlo uscire, per stanarlo dal suo rifugio. Allora Conall che cosa fa? Telefona alla polizia per vedere se Ginko è in centrale e il sergente dice no è fuori per servizio, invece quella telefonata l'aveva fatta prima Diabolik per farlo allontanare in modo che lui ha la conferma che Ginko ha circondato il suo rifugio. Allora a questo punto Conall dice alla fidanzata prendi tutti i gioielli, i soldi, metti in macchina e scappiamo e qua incomincia un grande inseguimento. Diabolik insegue Conall con la sua macchina, a un certo punto Conall fa uscire un branco fittissimo di nebbia, 10 km di nebbia, ma per Diabolik questa cosa non è niente perché c'è un radar e riesce lo stesso a seguirlo. Poi ancora fa franare la montagna, vedi? Fa franare la montagna e Diabolik si alza il tetto della macchina che va sopra queste pietre e lui ci passa sopra. Dice accidente, ha superato anche il mucchio di pietre. Allora arriva a un certo punto e c'è un burrone con una teleferica attraversano questo burrone e fanno esplodere il sostegno delle corde, in modo che Diabolik non può più passare. Allora lui dice, ho vinto Evagan, sono io il più forte. E vanno in un'altra villa di questo Conan. Adesso Diabolik perderà la sua complice perché io ho perso il suo rifugio per colpa sua. Quando mi avrà dato le formule delle maschere io ucciderò Evagan. A questo punto Diabolik entra e lo pugnala. la ragazza viene, Karin, e lui diceva e lei amore e si abbracciano. Un abbraccio fortissimo. Allora Eva dice, come hai fatto ad attraversare il burrone? Diabolik gli spiega che aveva rubato un piccolo aereo militare e con questo, infatti stava in questo cilindro l'aereo, con questo aereo ha salvolato il burrone e è riuscito a raggiungere Conan e l'ha sconvitto. Proprio in quell'istante sentono un colpo di pistola. Lei e Eva dice uno sparo, è venuto dalla casa e trova Karin a terra. Karin si è uccisa e la storia finisce così. Non poteva vivere senza l'uomo che amava. Amore mio, come la capisco? Perché anche per Eva magari sarebbe successa la stessa cosa. Però i nostri eroi riescono sempre a vincere. È inutile mettersi contro Diabolik. Va bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e fate pure i vostri commenti. Ciao a tutti da Nicola Corvino.